Bassano, una partita di pallone per sostenere l'EMPA, l'ente di protezione animale attivo da più di 10 anni anche nei comuni del Bassanese, una ventina in tutto con all'attivo il lavoro di 30 volontari che si occupano quotidianamente di protezione, cura e tutela non solo dei migliori amici dell'uomo ma anche di tutta la fauna selvatica. A scendere in campo sabato prossimo, il primo ottobre, allo stadio Santa Croce di Bassano, la storica formazione degli avvocati della Youth Sport guidata da Nereo Merlo, che se la giocheranno contro gli 11 dell'EMPA. Lo scopo è quello non solo di raccogliere fondi per l'ente ma anche sensibilizzare l'opinione pubblica in occasione della concomitanza con la giornata mondiale degli animali. Fischio d'inizio alle 15.